Buongiorno, oggi terminiamo l'argomento sui vincoli edilizi e lo facciamo trattando gli allineamenti e gli arretramenti stradali prima e gli spazi per il parcheggio e il verde pubblico poi. Cominciamo con la definizione di allineamento stradale. Per allineamento stradale dei fabbricati si intende il filo obbligatorio di costruzione delle fronti dei fabbricati e dei manufatti in genere che si affacciano su strade, piazze e slarchi. Gli allineamenti stradali in atto o previsti sono di norma indicati su apposite planimetrie dei piani regolatori, ovvero espressamente richiamati dalle norme e tecniche di attuazione degli stessi. Questi allineamenti possono essere modificati in sede di piani attuativi particolareggiati. Gli allineamenti stradali hanno in genere lo scopo di razionalizzare il posizionamento sul territorio dei fabbricati e dei manufatti a essi complementari, le recinzioni, le siepi, le alberature, eccetera, e in modo particolare di favorire sia un'ordinata edificazione nelle parti del territorio di nuovo insediamento, sia di conservare le caratteristiche ambientali negli insediamenti esistenti. Negli insediamenti esistenti può presentarsi la necessità di conservare gli allineamenti in atto, ovvero di procedere alla rettifica degli stessi. In caso di rettifica di allineamenti in atto, una regola generale per fissarne dei nuovi è quella di mettere in relazione l'altezza dei fabbricati con la larghezza della strada antistante. Nelle parti del territorio di nuovo insediamento, gli allineamenti sono stabiliti in base alla regola della confrontanza fra fabbricati e quasi sempre ricalibrati in sede di progettazione dei piani attuativi particolareggiati. In questa figura abbiamo quattro casi e andiamo ad analizzarli. Nel primo caso, gli allineamenti stradali previsti hanno come scopo quello di contribuire alla conservazione delle caratteristiche ambientali di una strada in un centro storico, mentre nella figura accanto l'obiettivo è quello di sostituire una piazza, che è questo vuoto, di una piazza informe con l'apertura di nuove strade, che sono queste. In questo terzo caso invece è evidente l'intenzione di realizzare una piazza a turbina. Infine, in quest'ultima figura, lo scopo è quello di ottenere la realizzazione di una strada autenticamente urbana. Passiamo adesso agli arretramenti. Per arretramento stradale si intende lo spazio che si determina fra la posizione del fabbricato e il ciglio della strada antistante. Non sempre l'arretramento dà luogo ad un allineamento di fabbricazione obbligatorio. Ciò succede per esempio per le costruzioni in territorio agricolo, che devono rispettare l'arretramento minimo di legge dalle strade antistanti, ma non necessariamente devono seguire i limiti dell'arretramento stesso. Negli insediamenti esistenti e nelle parti del territorio di nuovo insediamento, il limite di arretramento può coincidere con l'allineamento di fabbricazione. Nelle altre parti del territorio, l'arretramento si configura come fascia di rispetto a protezione delle strade e degli incroci per garantire la visibilità, consentire l'ampliamento di sedimi stradali e l'inserimento di eventuali allacciamenti. Gli arretramenti sono di norma destinata a verti e parcheggi. In genere, gli arretramenti stradali vengono previsti in sede di piano regolatore per le seguenti ragioni. Primo, fuori dai centri abitati e dagli insediamenti previsti, per consentire ampliamenti eventuali delle strade e per garantire la sicurezza a tutti coloro che percorrono le strade stesse, come possiamo vedere in figura, dove abbiamo un arretramento stradale determinato dalle fasci di rispetto in corrispondenza di un incrocio tra strade di diversa importanza. Secondo, all'interno dei centri abitati e degli insediamenti previsti, per consentire di realizzare parcheggi anche privati, formare giardini o aiuole di arredo urbano, migliorare la confrontanza tra fabbricati. Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, gli arretramenti stradali hanno assunto particolare importanza dal punto di vista della sicurezza della circolazione, tanto che vengono regolamentate le distanze dal confine stradale. Non solo dei fabbricati, ma anche delle recinzioni, degli ingressi carrai, della messa di mora di alberi e siepe e anche degli scavi. Passiamo adesso agli spazi per il parcheggio e il verde privato. Abbiamo già visto che i piani regolatori stabiliscono delle quote minime di spazi privati, aperti o chiusi in superficie o sotterranee, da destinare a parcheggio, tenuto conto dei mini di legge, che è un metro quadro ogni 10 metri cubi di nuova volumetria. Possono stabilire anche adeguate quote di spazi privati in superficie, da destinare a verde, al fine di migliorare le condizioni ambientali dei nuovi insediamenti. Vediamo il parcheggio privato, coperto o scoperto. Scoperto è questo primo caso, dove abbiamo il posto auto e coperto è questo ovviamente. La legge urbanistica prevede per ogni nuovo fabbricato una quantità di parcheggio privato nella misura minima di un metro quadro per 10 metri cubi di volumetria, l'avevamo già detto. Nell'assistimazione degli spazi a parcheggio, privati e pubblici, è bene tenere conto delle dimensioni standard di questi esempi a seconda dei vari casi. Abbiamo parcheggi orizzontali e quindi la dimensione delle corsie e gli standard sono questi, più lo spazio ovviamente di manovra. poi abbiamo questo tipo di parcheggi, diciamo in verticale e questi che sono a spina di pesce. Sono ovviamente e in tutti i casi è previsto sempre lo spazio di manovra e si tratta di parcheggi, schemi di parcheggi non alberati, come anche questo secondo caso. Nell'ultimo caso invece abbiamo questo schema a spina di pesce ed è un parcheggio alberato e qui si vedono le sagome delle chiome. con questo abbiamo chiuso e qui c'è anche una sintesi dei vari vincoli urbanistici e edilizi nel caso tu dovessi averne bisogno. Ecco come sai ho riassunto e fanno buon uso. Ciao e buon lavoro. Ciao. Ciao.